buongiorno a tutti allora questa non è una pizza c'è c'è tutto qualsiasi tipo di ingrediente della pizza parte peperoni c'è wuster gamberetti bresaola prosciutto cotto speck salame mozzarella di bufala quattro formaggi di partenza poi non so se ho dimenticato qualcosa ma c'è veramente il ragù il ragù è vero al posto del pomodoro il ragù quindi ci sono delle piccole polpettine all'interno del ragù perché praticamente sono proprio piccoli piccini picciò ma sono all'interno del ragù al posto dei pezzettini di carne trita quindi una è una cosa eccezione poi c'è anche un po di prezzemolo se non sbaglio non so che cos'è basilico basilico e quindi ragazzi eccezionalo veramente cioè adesso me la maggio volentieri spero di avervi fatto venire fame naturalmente domani vedrete l'ennesimo video in cui vi avviso dell'evento vi raccomando l'evento probabilmente ci sarà anche domenica l'evento non solo sabato quindi ma ne parleremo ciao